Cara mamma, la fine è ormai giunta. Sin da piccolo non ho fatto altro che darti preoccupazioni, ma ora che ho ricevuto l'ordine di attacco, un senso di soddisfazione che all'improvviso fa di me un uomo maturo pervade il mio corpo. È finalmente giunto il momento in cui potrò rendermi utile come pilota. Come ho già scritto in passato, darò il massimo di me stesso per l'onore della nostra famiglia. Sei stata la madre più buona del Giappone. Oggi mi sono fatto leggere le carte, e a quanto pari in futuro sarà la più fortunata di tutti. Papà sarà lontano ancora per molto, ma tornerà a casa e vivrete insieme. Anche la mia aspettativa di vita sembra fosse superiore ai 35 anni, ma per via dell'ordine dell'imperatore mi immolerò per la sicurezza della nazione. Poiché non posso portare con me la vostra fotografia, te la rimando indietro con questa lettera. Non nego di separarmene con tristezza, poiché fino ad oggi essa mi ha accompagnato in tutte le mie azioni da pilota. Per quanto sia triste, proferirò il massimo dell'impegno nella protezione del nostro sacro paese, con spirito privo di vergogna. Nonostante sembrino brevi, ho vissuto per 18 lunghi anni. Sgombrerò la testa da pensieri buoni e cattivi, concentrandomi esclusivamente sull'affondamento della nave a me assegnata. Immagino che l'annuncio della mia azione avverrà per la festa dei morti. Sarà allora che il mio spirito verrà a farti visita. Quando contemplo le montagne, mi tornano alla mente quelle della mia Fukushima. Sei stata la madre più buona del Giappone. Prenditi sempre cura di te stessa. A papà non scriverò. In Mongolia le lettere non credo arrivino più. Detto ciò, vado con spirito allegro. Addio per sempre. Sottotenente Teorou Usami, centottantesima squadriglia Shimbu. Caduto Okinawa il primo luglio 1945, a 18 anni. Quella che ho appena letto è soltanto una delle numerose lettere dei piloti delle squadre di attacco speciale, comunemente chiamati kamikaze, contenuti in questa raccolta intitolata Prenditi cura di te, sempre. Le originali sono conservate nel Museo della Pace a loro dedicato, nella cittadina di Chiranna, nel Kyushu, nel sud del Giappone. Da qui infatti partirono quelli di loro che avrebbero dovuto attaccare la flotta statunitensa d'Okinawa nell'ultimo disperato tentativo di arrestare l'avanzata delle forze alleate. Gli attacchi speciali ad opera della marina e dell'esercito iniziarono nell'autunno del 1944, quando la situazione per il Giappone era già grave e continuarono sino al termine del conflitto. All'inizio crearono scompiglio tra le forze nemiche, le quali poi, grazie anche all'impiego di nuove tecnologie, riuscirono a limitare al massimo il numero dei danni subiti. Gli storici, sia giapponesi che occidentali, sono concordi nell'affermare che soltanto il 16% degli attacchi suicida ebbe successo. All'inizio dell'estate del 1945, al termine della battaglia di Okinawa, il Giappone era militarmente sconfitto e privo di qualsiasi mezzo per continuare a condurre la guerra. L'unica strategia rimasta, se così può essere definita, era quella dello zengun toko, ossia un attacco suicida a cui avrebbero partecipato tutte le forze militari. Lo scopo era quello di infliggere al nemico perdite così elevate da togliergli qualsiasi volontà di combattere. Sconfitta la Russia nel 1905, il Giappone aveva sempre considerato come nemico ipotetico l'impero britannico, sia perché esso rappresentava una minaccia per le mire espansionistiche del Giappone in Asia, sia per il fatto di essere a sua volta un impero con una lunga storia militare, esattamente come il Giappone. Gli Stati Uniti erano visti invece come un paese sicuramente grande, molto forti economicamente, ma dal punto di vista militare i giapponesi si ritenevano nettamente superiori. L'immagine del soldato americano era quella che trapelava dai film hollywoodiani, donnaiolo molto attaccato alla mamma, dedito alla bella vita e poco ligio al dovere. L'antitesi del soldato nipponico, che faceva della disciplina e della sua estrema devozione per l'imperatore la sola ragione di essere. I giapponesi credevano che gli americani sarebbero rimasti così traumatizzati dagli attacchi kamikaze che avrebbero optato per un armistizio. Commissero invece un grave errore di valutazione. In questo libro intitolato Guerrieri fedeli, ad opera di Dean Ladd, che prese parte a quattro campagne della guerra del Pacifico nella seconda divisione marine, troviamo un passo molto significativo al riguardo. Dopo l'attacco a Pearl Harbor, ogni americano si sentì profondamente colpito nell'animo e giurammo a noi stessi che non avremmo smesso di combattere finché l'impero giapponese non fosse capitolato. I giapponesi erano soldati formidabili, combattevano per l'imperatore, per il Bushido e per l'onore della propria nazione. Erano pronti a morire per ciò in cui credevano e il corpo dei marine li avrebbe accontentati. Eravamo guerrieri anche noi. In un simile scenario ci fu però qualcuno che decise di opporsi a questa strategia suicida. Al capitano Masumi Uomoto venne affidata l'organizzazione di quello che sarebbe stato il primo attacco speciale ad opera dell'esercito nell'ottobre del 1944, durante la campagna delle Filippine, due settimane più tardi rispetto al primo attacco della marina. Il capitano Uomoto riteneva gli attacchi kamikazu una follia che non sarebbe servita ad altro che diminuire il potenziale bellico delle forze nipponiche, dal momento che ad essere scelti furono i migliori piloti che il Giappone aveva a disposizione. Il capitano Uomoto ordinò esplicitamente a tutti i piloti della sua squadriglia, chiamata Bandatai, di non schiantarsi contro le navi nemiche, ma di sganciare la bomba su di queste e di fare ritorno alla base. Se tornerete vivi potrete affondare altre navi prima che giunga la vostra ora, continuava a ripetergli durante le numerose esercitazioni di picchiata che precedettero l'attacco. Il capitano Uomoto venne abbattuto pochi giorni prima di guidare i suoi uomini in azione, che si ritrovarono all'improvviso senza una guida. Molti di essi, presi dalla desperazione, decisero di seguire alla lettera l'ordine di attacco suicida dato dai vertici dell'esercito, schiantandosi con i loro aerei contro le navi americane. Tuttavia, il caporale Tomoji Sasaki, un pilota di appena 21 anni che era molto legato al capitano Uomoto, decise che ne avrebbe onorato la memoria sganciando la bomba su una nave, affondandola e facendo ritorno. Il 12 novembre del 1944, la squadriglia Bandatai partì per l'attacco speciale. Sasaki tenne fede alla promessa fatta a se stesso e al capitano Uomoto. Mentre molti dei suoi commilitoni portarono a termine gli attacchi kamikaze, egli bombardò una nave e fece ritorno. Una volta fatto rapporto, venne bruscamente criticato per aver ignorato l'ordine ricevuto e per aver creato un problema di ordine burocratico. Al governo giapponese, all'imperatore e alle famiglie dei piloti era già stato comunicato il successo dell'attacco e i media ne avevano dato ampiamente notizia suscitando grande euforia in tutta la nazione. Gli venne immediatamente comunicato di tenersi pronto per un nuovo attacco e che stavolta l'obiettivo era quello di schiantarsi contro una nave, non semplicemente di affondarla. Sasaki ignorò anche stavolta gli ordini dei superiori che continuarono a vessarlo con ogni sorta di punizione e di insulti dicendogli addirittura di schiantarsi in mare se non avesse trovato alcuna nave da attaccare. Ad ogni modo, tra guasti all'aereo, la mancata individuazione della flotta americana e bombardamenti standard per le successive otto volte fece ritorno, creando intorno a sé una sorta di aura leggendaria tra gli altri piloti dell'esercito. Mentre si trovava nelle Filippine, in attesa del prossimo attacco, rischiò addirittura di essere assassinato per volere dei suoi stessi superiori, che non potevano assolutamente permettere che in patria si sapesse che fosse ancora vivo. Ma la guerra, per fortuna di Sasaki, finì prima. Una volta tornato a Tokyo, all'ufficio rimpatri si trovò faccia a faccia con il tenente che lo aveva continuamente vessato, al quale chiese il motivo per cui lo volesse morto a tutti i costi. L'ufficiale disse di non ricordarsi di lui. Tomoji Sasaki tornò in Hokkaido, dove era nato, e rimase lì per tutta la vita lavorando come agricoltore. Avrebbe voluto tornare a volare come pilota civile, ma non gli fu mai concesso. Negli anni successivi alla guerra i suoi concittadini lo guardarono con disprezzo, poiché non aveva portato a termine il suo compito da kamikaze, nonostante avesse creato al nemico molti più danni rispetto a molti piloti suicida. Qui emerge un tratto molto peculiare della cultura giapponese. Il modo in cui qualcosa viene fatto è molto più importante del risultato ottenuto. In una società in cui ancora oggi è considerato inaccettabile disobbedire ad un ordine diretto, il rifiuto di un ragazzo di appena 21 anni all'apice del nazionalismo giapponese assume dei connotati ancora più straordinari, a dimostrazione della sua tenacia e resistenza mentale. Il caporale Tomoji Sasaki è morto nel 2016 a 92 anni e la sua storia è raccontata in questa biografia intitolata Il kamikaze immortale, basata su un'intervista fattagli un anno prima. Alla domanda dell'autore su come fosse riuscito a sopravvivere facendo valere la propria volontà rispose Razionalmente capì che gli attacchi suicida erano inutili in termini di efficacia ma a noi piloti non venne mai concesso di pensare razionalmente. Giurai quindi a me stesso che avrei seguito alla lettera gli ordini del capitano Uomoto sganciando la bomba e facendo ritorno alla base. Così facendo avrei potuto volare ancora una volta che era la ragione per cui avevo deciso di diventare un pilota. Il 2020 segna il 75esimo anniversario della fine della guerra del Pacifico e della seconda guerra mondiale. Oggi più che mai è importante studiare la storia per capire gli errori del passato e far sì che non si ripetano più. Grazie e alla prossima.